Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Lego Batman il videogioco per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi bentornati su questo titolo Nello scorso episodio finalmente abbiamo ricatturato anche Killer Croc Abbiamo esplorato le fogne sotto Gotham e abbiamo dovuto affrontare questa boss fight Oggi ragazzi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo Come sempre prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video Perché se volete acquistare Lego Batman il videogioco, Lego Batman 2 e Lego Batman 3 in digitale Potete trovare tanti link utili che vi permetteranno di portarli a casa al prezzo di un caffè Ok ragazzi rieccoci qua Dove caspita siamo finiti Attenzione eh Dobbiamo andare da quella parte D'accordo Ah un igloo Ma dove caspita siamo finiti in un negozio di rane Chiudile dentro Robin No Non è un negozio di rane Sinceramente Ui sta arrivando gente Da dove caspita passano Ah da qua Aspettate che siamo finiti in acqua Mi hanno fatto finire in acqua Via dalle scatole grazie Arrivedo Ok Sconfitto Lui cosa vuole Niente C'è ancora un nemico Eeeh pieno di gente qua Quest'area comunque è bella grossa eh C'è parecchia roba interessante Questo sembrerebbe un negozio abbandonato Qui c'è un costume per Robin Io intanto sto spaccando tutto anche per iniziare a collezionare Monetine Perfetto Ho sbloccato il costume magnetico So già dove utilizzarlo Ok ho aperto anche quello Allora Robin deve arrampicarsi qua Ma Non mi toccare Cattivo Dai Batman dammi una mano su Ok abbiamo raggiunto il piano superiore Diamo anche una mano a Batman Che deve cambiare costume però Eeeh mi sa che deve cambiare costume Proviamo a saltare da questa parte Perché vedo tante monetine blu Così si che riempiamo la barra velocemente Cosa vuole? No Dobbiamo presentarci con un altro costume Qui c'è della roba da costruire Cos'è un sottomarino del pinguino? Ma è una tipo una statua a forma di pinguino Funziona? Si può salire? No Non si può far niente praticamente Allora Gente Ciao Venite Fuori Qui forse si nasconde Un costume Di Batman Che ci potrà tornare molto utile Ah Ho capito dove siamo Allo zoo Effettivamente I pinguini A Gotham Si possono trovare soltanto Allo zoo Qui c'è una porta da aprire Intanto cambiamo costume Perché dobbiamo andare dall'altra parte Eccoci Batman salta un pochettino più in alto però Dai Si incastra in continuazione Ok ce l'ho fatta Al terzo tentativo Ce l'ho fatta Dobbiamo sbloccare questo cancello Vai con la ruspetta Eeeh Chi è che cerca di fermarmi? Guarda lì Come ci sparano addosso Vieni su Dai Ok L'ho fatto volare via Eeeh Dobbiamo sbloccare anche questa porta qua Si praticamente è uno spazzaneve Guarda i leoni Come ci osservano Qui c'è altra Roba Da costruire Pensavo fosse una piattaforma Per sbloccare un nuovo costume Intanto facciamo fuori tutti questi qua Ok Eeeh Qui c'è altra roba da costruire Ah perché non l'abbiamo ancora finito Ecco perché Dai ragazzi su Basta scherzare con queste pistole Che poi vi fate male Cosa caspita è? Un totem Come faccio a raggiungerlo quel mini kit? Scusatemi Dai non lo raggiungerò mai Abbiamo bisogno comunque del veicolo Eeeh Qui la scala è rotta No La scala è rotta E lì sopra c'è un guardiano Vabbè Facciamo che procedere Qui non posso far niente Perché non ce la farò mai A raggiungerlo Poi qui dentro non posso Ah posso entrare anche qua? Davvero? Ok Prima di andare in una nuova zona Ah Qui possiamo moltiplicare Il punteggio Ciao leoni Ho sbagliato Raccattiamo tutto quanto Ah non mi fanno niente Si lamentano e basta E allora Andiamo dritti da questa parte Qui ci sono gli elefanti Possiamo No non ci credo Possiamo prendere un elefante Fantastico Vai elefantino Facciamo un po' di casino Guarda come volano via Bravo Batman Qui mi sa che dobbiamo salvare Il guardiano E Robin però abbiamo bisogno Di Un tuo costume particolare Eccolo qua Proprio quello che volevo Altre monetine Raccattate con i fiori No non funziona Perché non funziona? Manca qualche pezzo Magari Boh non me lo spiego Strano Vabbè Noi procediamo a bordo Dell'elefante Dai che mi sta più simpatico Grandissimo Se no i coccodrilli Ci mangiano Dai ma sparano addosso Un elefante Ma veramente Aia Batman Tocca a te No sono finito dentro C'è l'elefante Che mi da fastidio Spostiamolo Perché se no non riesco a Procedere Dall'altra parte Eccomi signori Sto arrivando Allora mi sa che Dobbiamo sbloccare Una specie di ponte Eccolo Oh finalmente è disponibile Ma è una tartaruga Ma cosa me ne faccio Della tartaruga Ah Può entrare qui dentro Voilà Porta sbloccata Ciao ragazzi Lasciatelo stare Batman Abbiamo bisogno Di te Ed è il tuo nuovo Costume Vedete possiamo Spaccare Qualunque Finestra Ah ok Eh ma come faccio Ad arrivare Da quella parte No non ce la farò mai Così Non è che magari Devo ancora utilizzare Questo costume qua Perché mi sa che Non ho sbloccato Tutto quanto Qui ci sono Ci sono delle piante Costume qua Perché praticamente dobbiamo Rompere il vetro Tirare la leva E sbloccare il cancello Eh ciao ragazzi Eh quanta gente Vola via Bravo Robin Mamma mia Li abbiamo massacrati Quello non viene più su Lo stavamo picchiando in due Oddio quanta gente Quante Bat botte Lui mi stava addirittura inseguendo Eh Qui che si fa Ah beh facciamo un po' di casino Eh guardate quanta roba che c'è da costruire Ok ho distrutto praticamente tutto quanto Sì ho distrutto praticamente tutto quanto Cosa dobbiamo costruire Batman Ah beh una passerella Eh beh ci sta Ci sta ci sta Guarda quante monetine Attenzione i coccodrilli Ehi la E qua Ah dobbiamo saltare da una foglia All'altra Vedete E qui però c'è qualcosa Eccolo il mini kit Lo sapevo Andiamo Nooo Pensavo di farcela Vabbè Di qua? No Dall'altra parte E ce l'abbiamo fa Più o meno Ce l'abbiamo Quasi fatta Fai Batman Sali su E Da questa parte Ok Perfetto Barra riempita Qui non c'è niente Anzi qualcosa c'è Ma sbaglio o lì c'è un altro mini kit nascosto Allora Nuovo costume per Batman Me lo prendo Assolutamente Dobbiamo far saltare qualcosa Dobbiamo sicuramente far saltare qualcosa No Non esplode niente Aspettate un attimo Vedo un passaggio qui dietro Ok Robin è riuscito a passare Perché c'è un mini kit lì dietro Guardate Ah ok Dobbiamo tornare indietro Perché Batman Adesso può piazzare le bombe Possiamo rompere quella Quella grata lì Ok Adesso ho capito perché mi facevano tornare indietro Vedete Ok Forse ci siamo Weyla E' caduto giù però Man butt Mamma mia Che brutto Quanti cuoricini ha sto personaggio Beh che è abbastanza scarso eh Allora Cosa abbiamo sbloccato qua Niente Attenzione alle bombe Dai Batman Spingi Mancano dei pezzi Forse Eh direi di si Cosa caspita stiamo costruendo qua Ah Adesso ci siamo Adesso ci siamo Dai che lo facciamo cadere giù Eccolo L'abbiamo stordito Tre cuoricini Tre cuoricini No Mi ha distrutto tutto quanto Compreso me Ha distrutto tutto quanto Compreso me Batman Stai attento che esplode Eccolo Diamogli il colpo di grazia Ok Ce l'abbiamo fatta Catturato Poverino Mamma mia E' incastrato E' incastrato Che sei Sembra un Gremlins Va bene ragazzi Abbiamo completato anche Questo livello Di Lego Batman Il videogioco Come sempre direi Di schippare tutto quanto Va bene ragazzi Eccoci tornati Nella Bat Caverna Direi che possiamo Terminare questo nuovo episodio Di Lego Batman Il videogioco Qua Abbiamo catturato Anche Man Bat Un super cattivo Al servizio Del pinguino Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Lego Batman Il videogioco Alla prossima Ragazzi Il videogioco Il A Grazie a tutti.